Due feste quasi consecutive nel calendario ebraico sono Hanukkah e Purim. Cerchiamo di esplorare le differenze e le somiglianze tra di loro. Cominciamo con le somiglianze. Queste due feste non sono nella Torah. Entrambe sono state istituite dai rabbini. La Torah ha solo Rosh Hashanah, Yom Kippur e le tre feste di pellegrinaggio Pesach, Shavuot e Sukkot. Entrambe sono molto allegre e ricche di immagini e per questo rimangono nella mente dei bambini. Creano meravigliosi ricordi di infanzia e aiutano a costruire un attaccamento emotivo all'ebraismo. Entrambe celebrano la vittoria ebraica sulla persecuzione. Entrambe sono miracolose e per entrambe recitiamo una preghiera speciale, al hanissim, in aggiunta al amida e al birkat ha-mazon, la grazia dopo i basti. Al hanissim ve'al hapurkan ve'al hagvurot ve'al hapshurot ve'al hamilhamot che'asita l'avotenu bayamim hahem bazman hazeh. Il che significa, ti ringraziamo per i miracoli, per la redenzione, per le opere potenzie salvifiche da te compiute, come anche per le guerre che hai fatto per i nostri padri nei tempi antichi in questa stagione. Si noti che lo Stato di Israele non è meno un miracolo di quelli celebrati durante Hanukkah e Purim, e per questo molte comunità ebraiche recitano anche questa preghiera nel giorno dell'indipendenza di Israele, Yom Ha'atzmaut. Entrambe sono considerate così importanti che i rabbini hanno trasformato la loro osservanza in veri e propri comandamenti. Due dei sette comandamenti rabbinici sono di accendere le luci di Hanukkah, le Hadlik Nershel Hanukkah, e di leggere la Megillah, il orotolo di Esther, a Purim, al-Mikra Megillah. Le somiglianze finiscono qui. La storia di Purim ha un libro nella Bibbia, il libro di Esther, un trattato nel Talmud, trattato Megillah, e un volume nel Midrash, Esther Rabbah. Hanukkah non ha nessuno di questi. Hanukkah è appena menzionato nel Talmud, nel trattato Shabbat, è solo come appendice a una discussione su quali stoppini e oli si possono usare per le luci dello Shabbat. Il libro di Esther non menziona Dio, eppure è nella Bibbia. I libri dei Maccabei, che raccontano la storia di Hanukkah, menzionano Dio, ma non sono nella Bibbia ebrea. La storia di Purim non è nota al di fuori della Bibbia, eppure è nella Bibbia. Gli eventi di Hanukkah sono noti al di fuori della Bibbia, eppure non sono nella Bibbia. Lo Hallel, un insieme di sei salmi che lodano Dio, è recitato a Hanukkah, ma non a Purim. Il Talmud ci dice che ci sono due ragioni per questo. Il miracolo di Purim non avvenne nella terra di Israele, e dopo questo miracolo gli ebrei rimasero sudditi di un re straniero. Il miracolo di Hanukkah, invece, avvenne in terra di Israele, e dopo il miracolo gli ebrei furono liberi e indipendenti. Hanukkah iniziò con il fisico, una ribellione armata, e terminò con lo spirituale, la ridedicazione del Tempio. Purim iniziò con lo spirituale, con la preghiera e il digiuno, e terminò con il fisico, la resistenza armata degli ebrei agli assassini. A Purim i persecutori volevano uccidere tutti gli ebrei. A Hanukkah i persecutori volevano uccidere solo ebrei osservanti, per eliminare l'ebraismo a favore dell'ellenismo. Hanukkah non sarà osservato per sempre, ma Purim sì. La Bibbia dice, cito, Questi giorni dovrebbero essere ricordati e conservati in ogni generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia e in ogni città. Questi giorni di Purim non dovrebbero mancare di essere osservati tra gli ebrei, né la loro memoria dovrebbe perire dai loro discendenti. Il Talmud di Gerusalemme aggiunge, cito, Nel tempo a venire tutti i profeti e gli scritti perderanno il loro valore, eccetto la Torah di Mosè e il Libro di Esther. E i nostri rabbini hanno insegnato. Quarantotto profeti e sette profetesse hanno profetizzato a Israele e non hanno tolto né aggiunto a ciò che è scritto nella Torah, tranne che per la lettura della Megillah. Il Midrash afferma categoricamente nell'avvenire tutte le feste verranno abolite, tranne Purim e Yom Kippur. Ci sono otto libri chiamati Maccabèi e i saggi non ne hanno incluso nemmeno uno della Bibbia. I primi due sono conservati negli Apocrifi, in traduzione greca, come aggiunte alle scritture cristiane. Questi libri non sono nemmeno menzionati nel Talmud. Il Trattato Yom Ha dice, cito, Perché Esther è stata paragonata all'alba? Per dirti che come l'alba rappresenta la fine di tutta la notte, così la storia di Esther rappresenta la fine di tutti i miracoli. Un'obiezione. Ma c'è Hanukkah che accadde dopo il tempo di Esther ed era anche un miracolo, no? La risposta fu, ci riferiamo solo ai miracoli inclusi nelle nostre scritture. Perché i libri di Hanukkah non sono nella Bibbia? Possiamo solo ipotizzare. Prima era disponibile solo una traduzione greca e i libri sacri dovevano essere scritti in ebraico. Si può ribattere che il libro di Daniele è in aramaico, eppure è stato conservato. Secondo, erano troppo recenti. L'era della profezia finì molto prima che arrivassero i Maccabei e tutto ciò che seguì non può essere divinamente ispirato. Terzo, i Maccabei erano una famiglia sacerdotale e la rivalità tra i Sadducei, che erano sacerdoti, e i Faisei, che erano rabbini, dissuase i rabbini dalla loro inclusione. Inoltre, i rabbini non approvavano che la dinastia degli Asmonei assumesse il regno di Israele, invece di restituirlo alla famiglia di David. La Torah dice che la regalità appartiene solo alla famiglia di David. Cito Non sarà tolto lo scettro da Giuda, la tribù di David, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà Shiloh, il Messiaia, al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Nachmanide commenta, cito A mio parere, i re che regnavano su Israele, che provenivano da tribù diverse da Giuda, dopo David, violavano i desideri espressi dal loro attenato Giacobbe, e stavano usurpando la legittima eredità di Giuda. E questa fu la punizione degli Asmonei, che regnarono durante il periodo del secondo tempio. È vero che erano persone rette, e se non fosse stato per loro, la Torah e le Mitzvot sarebbero state dimenticate dal popolo ebraico. Anche così furono puniti con una grande punizione. Tutti i loro discendenti furono uccisi a causa di questo peccato. Infine, i rabbini non volevano incoraggiare l'ennesima rivolta o provocare i romani. Perché Chanukah è meno festoso di Purim? Un rabbino italiano del XVII secolo, Asaria Figo, risponde come segue. Primo, più persone beneficiano di un miracolo, e quindi maggiore e la sua commemorazione. Il re Ahashverosh regnava su tutti gli ebrei, ma Antioco Epifane non regneva su tutti gli ebrei. In secondo luogo, gli eventi di Chanukah si sono verificati in Israele, quando sorgeva il Tempio. Il merito della terra e del Tempio rendono il miracolo meno sorprendente. Terzo, Antioco era solo contro i comandamenti di Dio, non contro gli ebrei in sé. Ci si aspettava che Dio si sarebbe difeso, per così dire. Aman era contro gli ebrei stessi, quindi l'azione di Dio contro di lui fu un miracolo più grande. In quarto luogo, il miracolo di Purim fu più grande in quanto fece sì che il re, che era anche un antisemita, agisse contro la propria volontà, permettendo agli ebrei di difendersi. A Purim facciamo rumore con i grogers, e a Chanukah giochiamo con i dreidol. Perché questi oggetti particolari? Una spiegazione è che il grogore è tenuto dal basso, il che indica che gli ebrei sono stati salvati a Purim grazie ai loro sforzi. Esther ha supplicato il re, e Mordecai ha escogitato piani dietro le quinte. Il libro di Esther non mense l'ha fatto Dio. Il drede, invece, è tenuto dall'alto, da una trottola, a indicare che la sconvolgente vittoria dei Maccabèi su Greci fu un miracolo. Concludiamo con una notte leggera. Una grande tradizione ebraica americana è il dibattito Latkas-Hamentashen. È un divertente e finto dibattito sui meriti di giacuna di queste due predibatezze. È nato all'Università di Chicago nel 1946, e da lì si è diffuso. Latkas di solito vincono. Ecco alcuni argomenti degni di nota in questi dibattiti. Innanzitutto, i latke sono nove volte più popolari delle Hamentashen. Una ricerca su Google fornisce 3.300.000 risultati per latke, ma solo 385.000 per Hamentashen. In secondo luogo, gli Hamentashen simboleggiano il cappello di Haman. Quindi rappresentano mangiare il nemico, una violazione delle Convenzioni di Ginevra sulla guerra. Terzo, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto le lacche, ma non i Hamentashen. Nel caso County of Allegheny vs ACLU, l'opinione della maggioranza, scritta dal giudice Blackman, dice, cito, è anche usanza a servire frittelle di patate o altri cibi fritti a Hanukkah perché l'olio in cui vengono fritti è per tradizione un ricordo del miracolo di Hanukkah. Nessuna decisione della Corte Suprema ha mai menzionato i Hamentashen. In quarto luogo, dal punto di vista dell'efficienza energetica, il latke è otto volte più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto al Hamentashe. Quindi, Keplero scoprì che le orbite dei pianeti intorno al Sole sono ellissi contemplando un latke ben cotto. D'altra parte, i latke aumentano la nostra dipendenza dal petrolio straniero. Ed è stato recentemente scoperto che il Large Hadron Collider di Ginevra, il più grande acceleratore di particelle del mondo, è segretamente un Latke-Hamentashen Collider, come dimostra il suo acronimo LHC. ha anche Hanukkah. grazie a tutti